Era già accaduto a fine ottobre e poi in occasione della ricorrenza di Ogni Santi. Nelle ultime ore ancora atti vandalici nei cimiteri di Tezze sul Brenta. Le immagini si riferiscono in particolare all'ultimo episodio in ordine di tempo accaduto ieri a Belvedere. Numerosi cittadini hanno trovato le tombe dei loro cari saccheggiate. Sono stati portati via fiori, vasi, decori natalizi, gettati poi nel vicino cassonetto dell'immondizia. Sul problema si era esposto il sindaco di Tezze, Luigi Pellanda, stigmatizzando questi episodi e informando i cittadini dell'imminente attivazione di un sistema di videosorveglianza a tutela del decoro e della sicurezza nei luoghi sacri. L'invito è sempre quello di segnalare alle forze dell'ordine qualsiasi attività sospetta o episodio vandalico che aiuti le autorità a identificare i colpevoli.